Buonasera e ben ritrovati ad una nuova edizione del Tg di CronTV. Si intensifica l'offensiva delle forze dell'ordine nei confronti del fenomeno, dei furti in appartamento, controlli sempre più serrati che hanno portato nelle ultime 24 ore a due importanti operazioni e a tre arresti. I servizi sono di Bibiana Sudati. Ladri scatenati in questi giorni a Cremone, provincia, ma questa volta è andata male ai banditi. La polizia ha infatti arrestato un cinquantenne cileno con l'accusa di tentato furto in abitazione dopo un rocambolesco inseguimento scavalcando le recinzioni tra i condomini del quartiere Po. L'uomo, con numerosi precedenti perreati contro il patrimonio, era stato avvistato da un residente mentre insieme ad altri due complici si aggirava per i pianerottoli di un condominio di via Ticino. In sospettito, il residente ha avvertito la centrale operativa della polizia che, tenendosi in costante contatto con lui, ha potuto seguire i movimenti dei tre uomini e intanto diramare l'avviso alle unità della squadra volante. Addosso al cileno sono stati trovati oggetti atti allo scasso, come un cacciavite, poi guanti e una torcia elettrica. Lo straniero è stato tradotto a Cadelferro a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre degli altri due soggetti si sono al momento perse le tracce. Nella mattinata successiva all'arresto, la zona teatro degli eventi è stata letteralmente setacciata dalla polizia, sia per effettuare un più meticoloso sopralluogo, sia per la ricerca di ulteriori elementi che potessero dare un nome ai complici. Nel corso di queste ispezioni sono stati rinvenuti due zaini contenenti elementi utili al proseguo delle indagini, cacciaviti, guanti, corde arpionate ed attualmente al vaglio ad esame degli uomini della polizia scientifica. Non si oscludono sviluppi nelle prossime ore. Enesimo arresto anche per i carabinieri in quella che è una vera e propria lotta ingaggiata in queste settimane dalle forze dell'ordine di Cremona contro il fenomeno dei furti in appartamento. In manette sono finiti due albanesi pluri pregiudicati, con profili criminali di tutto rispetto per quel che concerne reati contro il patrimonio. Si tratta del 29enne Denis Bardi, del 27enne Spartak Oxa, entrambi senza fissa di mora e senza lavoro se non quello di svaliggiare case. Sono stati catturati dai carabinieri del nucleo radiomobile dopo un lungo inseguimento nella zona di via Castelleone. La segnalazione alle forze dell'ordine è arrivata ieri sera attorno alle 19 da un residente allarmato per la presenza in via Antonio Di Dio di due sconosciuti. La centrale operativa ha quindi diramato la nota che ha interessato anche l'elicottero della compagnia di Orio al Serio, un velivolo speciale dotato di apparecchiature sofisticate che lo rendono in grado di operare anche nell'oscurità e utilizzato in questi giorni dalla compagnia di Cremona per intensificare i controlli sul territorio. Gli elicotteristi hanno individuato uno dei due banditi, il palo, e fornito le coordinate ai colleghi della radiomobile che sono intervenuti. Alla vista dei militari, i due ladri si sono dati alla fuga in direzioni opposte, inseguiti a breve distanza dai due carabinieri dell'equipaggio. Il primo bandito è stato acciuffato in via Castelleone, il secondo dopo una corsa di circa 600 metri in una via secondaria dopo che aveva cercato di scavalcare una recinzione. Ammanitati sono stati portati in caserma. Addosso ad uno dei due è stata trovata la rifurtiva, oro, orologi, profumi e denaro contante, portati via da un appartamento di proprietà di una signora di 59 anni, non in casa al momento del furto. L'altro è stato invece trovato in possesso di un arnese da scasso, un pezzo di ferro forgiato non a caso in modo artigianale, proprio per illudere eventuali controlli e spacciarsi, come in effetti hanno tentato di fare durante l'interrogatorio, per due muratori. Non solo, i carabinieri hanno trovato nel portafoglio di OXA otto banconote false da 50 euro. Per questo lui è stato contestato anche il reato di spendita di banconote false, oltre che di furto in concorso e possesso di arnesi atti allo scasso. I carabinieri stanno svolgendo indagini per verificare se in alcuni negozi e centri commerciali della città i due siano riusciti ad utilizzare il denaro contraffatto. Questa mattina gli arrestati sono comparsi davanti al giudice per la direttissima che ha convalidato i fermi. Per il più giovane è stata decisa l'espulsione immediata e il rimpatrio, mentre per Bardi si sono aperte le porte del carcere di Cadelferro. Arrivano per Cremona importanti novità nell'ambito dei servizi smart, della green economy e dell'economia circolare. Sentiamo. A poco più di un anno dalla firma dell'accordo tra LGH e A2A arrivano per Cremona importanti novità. Le due utility infatti hanno deciso di investire sulla nostra città nell'ambito dei servizi smart, della green economy e dell'economia circolare. L'annuncio questa mattina è in una conferenza stampa dove sono intervenuti i vertici delle due aziende e la presenza del sindaco Galimberti. A spiegarci i vantaggi dell'iniziativa è il presidente di LGH. Dopo 15 mesi dalla partenza della partnership LGH A2A proponiamo una riorganizzazione straordinaria del gruppo LGH in cui Cremona sarà sempre più sede forte del nostro gruppo e avrà una vocazione tecnologica e green molto spinta per cui svilupperà soluzioni, investimenti per lavorare sull'efficienza energetica, sulle energie pulite e sulla tecnologia che vedremo nelle città nei prossimi anni. Noi lavoreremo per potenziare il teleriscaldamento, saremo sempre più investitori su questa tecnologia ma allo stesso tempo lavoreremo per far risparmiare le imprese e la pubblica amministrazione e quindi anche i cittadini su quelli che sono i consumi energetici e su questo linea reti impianti che diventerà linea green avrà un ruolo fondamentale. Perquisizioni nel palazzo di Ostia dove abitava Roberto Spada, arrestato per la testata un giornalista Rai compiute da polizie e carabinieri in un controllo straordinario scattato stamattina. Sarebbero stati trovati e sequestrati armi e droga e fermate alcune persone nella cui posizione al vaglio. Alla maxi operazione di controllo del territorio partita alle prime ore dell'alba ad Ostia hanno partecipato anche la guardia di finanza per un totale di 250 uomini. Nel corso dell'operazione sono state impiegate unità cinofile, elicotteri, unità navali, equipaggi delle parti prevenzione crimine della polizia e compagnie, intervento operativo dei carabinieri di supporto e già presenti dispositivi di controllo del territorio. Il cadavere di un uomo di 69 anni in avanzato stato di ricomposizione è stato trovato nel suo appartamento in corso 22 marzo, zona centrale di Milano, a chiamare la polizia. È stato un veterinario a cui era stata inviata la richiesta di occuparsi di un animale dell'uomo. La polizia indaga per omicidio. Con mezzo governo del presidente Carl Pidgemont in carcere per aver portato avanti il progetto politico dell'indipendenza e l'altra metà in esilio in Belgio, rischia l'incriminazione anche la leader di Erk, Marta Rovira, possibile futura presidente catalana. Se il suo partito, come prevedono i sondaggi, vincerà le elezioni del 21 dicembre prossime, Pidgemont e i suoi ministri rischiano 30 anni per presunta ribellione. Amore a parte è anche una faccenda di soldi, almeno secondo il Financial Times, che inizia a fare i conti sul prossimo matrimonio reale annunciato per primavera fra il principe Harry, secondo genito di Carlo e Diana, e l'attrice americana Meghan Markle e sull'impatto che questo potrà avere sul PIL britannico, oltre che sulle casse della Corte. I calcoli del giornale della City si basano sui precedenti delle nozze del secolo, quelle fra Carlo e Diana e poi quelle fra William e Kate. La conclusione è che questa volta i benefici sull'economia del regno saranno prevedibilmente scarsi. Io oggi non guardo la classifica, vivo la giornata. La partita di Benevento deve essere come una finale di Coppa del Mondo. C'è bisogno di riuscire a cambiare ed avere maggiore consapevolezza. Per giocare bene a San Siro bisogna star bene a 360 gradi. A livello mentale bisogna dare qualcosa in più a questi ragazzi e la priorità. Così il nuovo allenatore del Milan, Genaro Gattuso, nella conferenza stampa della sua presentazione oggi a Milanello, parlando della possibilità di raggiungere la Champions. Questa sera alle 20, Bar Sport, Giorgio Barbieri e i suoi ospiti parleranno come sempre del campionato della Cremonese. Il TG invece torna come sempre domani alle 18. Tutti voi buon proseguimento di serata. Arrivederci.